Ultimi lavori di preparazione per l'antica fiera di San Gregorio 2017. Tutta la cittadina di Valdobiadene si sta organizzando per questa edizione della fiera sentita sia in Italia che all'estero e che ogni anno riscuote sempre più successo. I primi appuntamenti, dopo i convegni di giovedì 2 e 9 marzo, saranno per sabato 11 marzo con il concerto di San Gregorio nell'antica chiesa dedicata al Santo.